Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Oggi apriamo un'altra casella del calendario dell'avvento di Harry Potter Allora, oggi è il 19 dicembre Il suo vuol dire che dobbiamo aprire questa casella qui Con l'immagine del castello della scuola di Hogwarts Allora, apriamo Tiriamo fuori Ok, sono solo questi Sono dei cartoncini Cosa sono? Delle cartoline Con delle immagini natalizie Prese, immagino, dal film di Harry Potter Allora, vediamo se riusciamo a capire Questa è la sala dove si svolge il ballo del ceppo Qui è sempre la sala del ballo del ceppo Però l'immagine è in verticale Poi ci sono anche qua le immagini dei personaggi che ballano Tipo ho già riconosciuto Ermione Poi qua abbiamo la sala grande Quando arriva il periodo natalizio Che ha un sacco di alberi E anche qui ho riconosciuto Ermione, Ron e Henry che sono qui Questi tre Poi, poi, poi Qua abbiamo Immagini dove c'è l'albero L'albero e tutti i studenti Che aprono i pacchetti regalo E questi qui Li ho riconosciuti tutti Sono Ermione, Ron, Ginny E George e Fred Questa è l'ultima Cartolina Dove prende Ci stanno le slitte Trenate dai cavalli Con tutta la neve Poi di sfondo c'è il castello Poi qui Si scrive Scrivono varie cose E sono molto, molto, molto carine Ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Mettete un bellissimo mi piace E ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao